Donare i propri organi è importante perché significa salvare vite umane. Per sensibilizzare la gente alla donazione, la sezione Aido di Valdobiadene organizza annualmente una passeggiata, utile per passare un momento conviviale, ma anche per riflettere. Ognuno di noi potrebbe avere bisogno di essere curato con un trapianto. 3, 4, 3, 2, 1... Parte in questo momento la passeggiata della vita. Questa giornata ha un significato molto importante perché tutti noi dobbiamo comprendere l'importanza della donazione dei nostri organi per dare alle persone ammalate nuova speranza di vita. Con questo gesto di donazione potranno avere una nuova vita di salute e speranza. A Valdobiadene tanti sono i donatori e in particolare le donazioni in molti organo. Ricordiamo tra questi donatori in molti organo i fratelli Michele e Arianna Varago, Bortolin Sebastiano, Miotto Flavia e Rocco D'Acampo. A loro dedichiamo questa passeggiata della vita. Un sentito ringraziamento va ai loro familiari, molto sensibili alla donazione. Un ringraziamento va anche al sindaco Fregonese Luciano e a tutti gli assessori e consiglieri comunali di Valdobiadene. Al presidente provinciale Cavalier Donner Mario, alla signora Maria Farina e al personale della Croce Bianca, al dottor De Borto Rieric, al professore delle scuole medie Modesto Bonan, alla preside delle scuole di Valdobiadene e a tutte le persone che oggi hanno aderito a questa manifestazione della passeggiata. Dal presidente Luciano Trammet un grande grazie a tutti voi e buona passeggiata.